Nanowar of Steel, Gli Atroci, Lercio, Sesso, Droga e D&D, Victor Lazlo, Vanni De Luca, Christian Eyes, siamo matti. Il 26 di maggio, al Live Club di Trezzo sull'Adda, ci sarà la terza donata di Fiodalesime Libertà, e ci sarò anch'io, in veste di Papa Alemanno I. Prendete i biglietti, perché se non volete fare la fila per ore, 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 in eterno, sino alla morte, vi conviene averli prima. E io non ho intenzione di sprecare tutta l'acqua santa, in estreme unzioni, perché voi morite fuori, agonizzanti. 26 maggio, Live Club di Trezzo sull'Adda, terza donata di Fiodalesime Libertà, rimanete in vita.